Hello everyone! Io non lo so dire bene, però mamma lo sa dire molto meglio Oggi siamo in questo nuovo video di questa nuova serie Questo è l'episodio 1 Spero che andrà molto avanti questa serie, se mi va E se non vi piace, non la continuo naturalmente Siamo sul telefono, mi dispiace che si vedano tutte queste cose Ma è il telefono, queste cose in basso a sinistra E questo coso qui, lo vedete? Questo coso Ma sul telefono è così Però mi direi, perché mamma che sta giocando sul telefono? Semplicemente perché sul telefono ci sono le mod Infatti ho messo la mod di questo coso E mi faccio la mod di questo E viene a cremare questo Shia Shia Poi ho messo altre mod di questo Vi faccio vedere Vado Tipo questa sedia più figa Poi Questa lana Quest'altra lana Questa lana E questo coso E questo non mi piace Questo non mi piace Questo non mi piace Questo non mi piace E questo non mi piace Poi questo è il coso L'armatura di coso bello del coccodrillo Poi qui tutti i letti che non so perché si sono sminchiati E basta E basta E basta Basta E poi magari ci sono altre cose Forse Ma forse Forse Che cos'è questa merda Vabbè Comunque andiamo un pochino in giro A Perché naturalmente questa è una survival Quindi dobbiamo fare delle cose Spaccato Cosa è successo Ok Ragazzi ditemi Ehm Se dovrò aggiungere altri mod Consigliatemele tipo Boh La mod Delle moto Cioè Qualche modo Voi ditemelo Tipo la mod Delle armi Se volete Io l'aggiungo Basta che me lo dite Tipo la mod Degli altri mod Vabbè Voi Basta che me lo chiedete E io lo faccio Io lo faccio Io lo faccio Balla grafting E E Ok Questo Qua E Tu Detto qui Ecco Allora E Oh Quei Allora Figlio di Scraffa Mmm Non so come si fa E E Fa Tom To Sfocusate Sorry 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 man Prendiamo tutta la linea Ok Coloca C'è un cibo Allora Cos'è questa roba Allora Allora Va a fare Ehm Faccio andando un pochino di best 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 Un piccone In legno e vabbè rompiamo 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 rompiti ok ok la pepina oh questo 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 la madonna e cosa mi manca la pala giusto non posso dibatticarmi la pala comunque io lo voglio questo 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 l'inventario è guardate è pur più grande spero l'inventario è diverso l'inventario su andiamo adesso prendiamo un lollipops lollipops prendiamo un po' e vediamo un pochino di cosa voglio fare qui l'inventario 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 lollipops 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 se se vi piace il video lasciate like iscrivetevi al canale facebook e e e ricco ricco di like e e e dice iscrivetevi e 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 ammazzata mai c'è stato stessa roba what c'è qualcuno che si mangia i polpi scusa cosa non ti volevo picchiare non ti volevo no 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 io ti voglio bene non ti voglio uccidere non ti voglio uccidere che cosa sono dei cosi che cazzo sono che cazzo sono pronto? chi è? ma che cazzo sono? ecco io eh eh ma che ne so certo non ho analizzato vediamo allora vediamo dentro l'acqua delfino ma è è di da qui delfino eh lo posso sfamare mo la sta facendo niente adesso Scusa 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 No È difficile che io moro, troppo forte Un delfero fammi salire Ti voglio cavalcare Vieni qui Fatti cavalcare Fatti cavalcare No, no, no No, no, no Please Che culo Perché morono? Guarda, i delfini che morono What? Sempre più stupido i delfini C'è i delfini in voi Un salito sul delfino No, sono solo salito Cioè, non posso capire Ma perché io moro delfino Delfino No, no In questo video abbiamo solamente scoperto che posso cavalcare delfino Basta Comunque ragazzi Vieni Vieni bene Vedemi qualche modo da aggiungere Io l'aggiungerò Un saluto di Manuel e al prossimo video E un saluto anche da questo video di puttana Bella No 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 No, please Cheeeeeeees